Vendo da buon cuore che siete via o no? C'è gente eh? No no, nessuno Prima volta mi capito Oh tutti a tende sono, attende, attende raga Bello Facciamo subito un pannello d'auto veloce Mi hanno colpito, mi hanno colpito Marco un fucile di assalto se serve Quanti soldi abbiamo? Non c'è altri soldi qua Scafuliamo Raga, UAV non c'è nulla cosa non c'è Ho dato? Sì sì, dovevo prendere i soldi Quanti soldi qua? Quanti soldi? Buona 1.0004 Guardate 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 ho anche una cazza di muni quando volete buttala 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 io sono a posto però c'è anche questo andiamo a tende? eh boh proviamo se volete tornare andiamo non è facile dove vi andiamo? non mi pinga nessuno eh saranno già gli ping no pinga niente fogone in arrivo sono pazzo gente alto sotto c'è un altro forse questo è una fantasma c'è gente di fianco a voi a terra no ragazzi dove 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 qua qua stanno entrando da voi stanno entrando stanno busciando nell'altra casa vai ecco sono in un'altra casa di fianco a questa qua qua in quella rossa qua sopra in arrivo in arrivo in arrivo in arrivo in arrivo in arrivo griglia in arrivo in arrivo raga occhi stanzione stanzione terra terra piastra per tutti a living ok casa grande no che ha fatto mazzate tutti la sono sorrezzate una terra vengo ancora io un altro mi sa qui qua dentro no cazzo sta scappato 4 metri a sopra sopra e proprio qua appena sali aspetta un attimo ti faccio vedere una cosa col coltello aspetta un attimo ti faccio vedere un attimo l'ho ucciso con il coltello che è morto dalla testolina e bam ma come hai fatto? è col coltellino c'era la testolina piccolina nelle scale ho mirato proprio con attenzione che cosa è morto sta salendo? sono sotto di noi faccio la stessa e pinga non mi pinga ah qua qua ragazzi oh qua qua buona buona morti tutti quanti? si eh si trucidati 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 anzi corazzi prendi corazza marcata mi hanno fatto come un po' l'omeo oh ma le mie armi dove cazzo sono finito sono le mie armi non lo so ragazzi c'è uno qua dentro le trovate facciamolo no non c'è eh ah io le mie armi dove cazzo possono essere finite non mi ricordo che sono morto ma eh allora uno là ok uno 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 bravissimo bravo c'è un altro dentro questa casa resti resti si si no dai te ho ricaricato guarda dove? da dove raga? guarda la casa là sotto ce lo vedo guarda stai dove ti sei? qui ah no fatti nastardo aspetta che arrivo occhi aperti la finestra di ritornata per chiudarsi L'obiettivo è eliminare il bersaglio. Qualcuno qua? Prezzi tornati alla normalità. No, ho abbandonato sbrambi. Parca troia. No, si è lasciato. Ho pure accettato qualche invito. Se la vinciamo così... Mamma mia, proviamo. No, dobbiamo tamperare un po'. Esatto. Sbrambi è ancora qua. Andiamo a casa grande? Sì, sì. Mi prendo l'altra maschera che questa qua è una merda. Esatto. In cazzo di gas ho il cosetto di gas. Antigas. Ok. Ok. Vogliamo allungarci verso... Verso un cazzo. No. Siamo centrali. Ah, proprio qua. Perfetto. Tornati avverso una nuova zona sicura. Mi vedo. Raggiù. Si sono. Marco un bersaglio. Attenzione in alto! a terra il fatto sotto un altro le hai fatto tu eccolo uno qua si è sceso da un nemico occhio che ti fa il giro d'acqua la gente tanto ma devo non scendere qua c'è gente ho salito qua in questa casa qua eccolo qua 41 m da questa parte è in trappolo dov'è qua qua e qua qua è quello la destra e faccio questo qua no 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 aiuto 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 mi ha buttato arrivo arrivo che salgono sali 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 merda me la caverò alla nuova zona sicura questi sono fottuti adesso sali sul tetto sali sul tetto sono qua ok è morto finisci lo abbiamo la maschera giochiamo con la maschera sotto fino all'ultimo non davanti a noi ok giochiamo con la maschera quando loro si imbuti eccolo uno non ci credo cosa abbiamo fatto cosa abbiamo fatto vai che cazzo abbiamo fatto dio frate quel gas che ho buttato l'antigas è stata la salvezza di qua per quel coso i profi di gas madonna aspettate che non ti sento aspettate che non ti sento che è 8 minuti abbiamo giocato bene dai col terzetti con tutto che era terzetti vediamo cosa dicono la bella proprio vediamo 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 eee the left guys criminali gg ok ragazzi due contro quattro due contro quattro chiappè schiappè chiappè io stacco io stacco pure fra adoro sentiamo lopo sentiamo lopo sentiamo lopo bello